Calabria, Roma. Alla riunione di Forza Italia sull'autonomia occhiuto ribadisce i suoi paletti. Si è parlato per mesi soltanto dell'autonomia differenziata e troppo poco di diritti sociali e civili, di leplivelli essenziali di prestazionie. La Corte Costituzionale ha puntato l'obiettivo proprio sulla necessità di assicurare i diritti a tutti i cittadini sia che siano residenti a Crotone o a Vercelli. Quindi siamo assolutamente favorevoli all'attuazione del titolo quinto della Costituzione ma l'autonomia differenziata, che è una possibilità, deve andare almeno di pari passo rispetto all'obbligo costituzionale di definire e finanziare i livelli essenziali di prestazione. L'ha detto Roberto occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, governatore della Calabria e tra i più critici sulla riforma Calderoli, arrivando alla prima riunione dell'Osservatorio di Forza Italia sull'autonomia, in corso a Roma.